Ti salutano, non posso inquadrarlo, non posso inquadrarlo, mi piacciono molti, ma questo è quello che è il limone, si è lui, ma ti posso inquadrare, se vuoi inquadrare, che è un problema tuo, un saluto, un saluto a tutti i ragazzi di Patrizio Official, mi conosce incredibile, Ragazzi, una cosa ti chiedo, fate sempre sesso, guarda porco Dio, stanno tutti impazziti, sei una delle prime persone che lo fa, auguri, col coraggio perché non c'è niente di male, un messaggio, un messaggio, spingere, spingere, di design, di design.